buongiorno e buonasera ragazzi siamo tornati avete visto il video di ieri con i favoriti per la maglia gialla o comunque per la classifica generale e oggi siamo tornati e facciamo tutte le altre maglie che sono meno importanti ma non troppo perché per il fanta cycling alla fine portano tanti punti quindi da non sottovalutare tutte le maglie oltre la gialla ovvero la pualla verde e la bianca allora partiamo con i favoriti della maglia verde dove ci sono subito delle grosse sorprese eccoli qua mulla che dici dico che l'uscita di scena di bennet chiaramente ha riaperto tutto chiaramente giustamente diciamo favorito demar perché perché demar perché sicuramente ora che si sente diciamo comunque il favorito cercherà in tutti i modi di portarla a casa perché è francese e perché può resistere tre settimane e può ancora ha già vinto una ciclamina al giro italia comunque e comunque essendo francese è sempre quel qualcosa in più no che gli dà quella motivazione in più e quindi è il favorito 5 stelle giustamente sì anche secondo me demar visto diciamo gli ultimi anni a parte questo inizio di stagione che non era al top e lo si è visto ora sembra un pochino più in forma quindi anch'io lo vedo leggermente sopra saga ma perché sopra saga perché saga ne è vero che reggerà nelle tappe un pochino più dure dove magari andrà all'attacco per cercare il traguardo volante o magari un piazzamento nelle tappe un pochino più difficili dove demar magari si potrebbe staccare però ci sono sette otto arrivi in volata dove sulla carta demar ha qualcosina in più rispetto a saga nella volata secca no sia qualcosa in più e anche una squadra diciamo ben rodata no un bel treno diciamo che lavorerà per lui e quindi e poi c'è una motivazione dai una motivazione particolare diciamo che senza bennett demar sagan e ci mettiamo anche van art probabilmente io ci metto anche col brelli sono questi qua i quattro favoriti principali un po un po più indietro negli sprint e puri deve più simile a saga no deve arrangiare deve inventarsi qualcosa e van art invece van art allora profilo basso ha detto che non punterà la maglia verde che non punterà gli sprint di gruppo chiaramente noi non ci crediamo a niente di tutto questo e quindi io penso che van art farà se sei in condizione un tra tutto agli arrivi più difficili agli sprint se si troverà a lottare per la maglia verde lo farà dato che lui anche un'arma in più qual è l'arma più le crono in cui potrebbe prendere qualche punto si sono meno i punti a crono però però comunque sono sempre punti però ci sono gli altri non lottano a crono capito sì sì ma anche no soprattutto le crono anche negli arrivi magari io penso ai primi due arrivi in salita tutti questi velocisti sono tagliati fuori dai primi arrivi in salita forse qualcuno non lo so un pensa un laporte o un iwan formato poggio potrebbe far qualcosa sui 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 primi due arrivi difficilissimo anche però sai si gioca la maia gialla quindi mai dire mai van art sicuramente la concorrenza capito la concorrenza è alta van art qua se nei primi due arrivi se la giocherà quella filippe e van der pool e se per caso van art dopo due tre tappe non ha la gialla ma alla verde secondo me se la lotta fino alla fine sì sì io non mi fido mai di quel che dice ok col brelli l'abbiamo già detto che comunque è l'italiano l'unico italiano che lotterà per la maglia verde ce n'è un altro che magari nominiamo alla fine però lui è il principale favorito per i nostri colori porterà anche la maglia di campione italiano però chiaramente in volata a qualcosa meno dovrà inventarsi qualcosina è in forma smagliante è in forma smagliante potrebbe anche sai cosa nei primi due arrivi in salita al muro di bretagne e l'altro potrebbe piazzarsi attenzione attenzione perché masnada non l'ha staccato in salita al campione italiano e potrebbe fare bene attenzione iwan e matthews perché sono sono dietro nelle gerarchie dietro perché iwan è chiaramente nell'esplorio che non c'è bennet secondo me come come velocista è il più veloce è il favorito nello sprint puro però chiaramente secondo me non ha la continuità per lottare sulla mappella maglia verde per tre settimane in una gara come il tour non ha la continuità e probabilmente non ha neanche la motivazione adatta dato che vuole anche fare andare la vuetta e vincere una tappa anche la vuetta quindi difficilmente avrà la costanza per lottarla fino in fondo e matthews matthews perché dimmi no te perché perché ragazzi in volata ha perso tantissimo non è più il matthews di qualche anno fa assolutamente penso che sia rispetto a sagan ancora inferiore in volata cioè è inferiore anche a sagan in volata unica cosa matthews sai cosa matthews nelle anche nelle gare di una settimana dimostra sempre di fare lo sprintino no sul traguardo volante quindi lui non sarà il portatore della maglia verde a parigi ma è probabile che terzo quarto terzo potrebbe starci iwan ti dico francamente lui vince due tappe non so se arriva a parigi probabile perché magari l'arrivo a parigi fa palmarès però lui si accontenta di vincere due tappe e giocarsi poi la volata di parigi a lui non gliene frega niente dei traguardi volanti non è mai stato uno da traguardi volanti quindi secondo me non è da maglia verde però sai come si è detto prima se ti ci trovi con la maglia verde a metà tour a quel punto lì se vince quattro tappe a metà tour c'è la maglia verde è chiaro che comunque la se la gioca peders e merliel la port e philips in tutti a due stelle sono tutti velocisti chi più chi meno con dei difetti non lo so cosa c'è da dire philips e merliel hanno dichiarato che faranno una volata ciascuno e quindi questo li penalizza nella maglia verde impedisce di rottare chiaramente a meno che uno dei due non si fa fuori da solo più maggiore condizione alla philips non sta benissimo merliel secondo me difficilmente finirà il tour perché non l'ha mai fatto e non difficile troverà molte difficoltà a superare le tappe di montagna pedersen non l'abbiamo visto molto bene dai diciamo la verità il pedersen dello scorso anno e anche dell'inizio stagione sembrava magari un pedersen che avesse veramente una gamba forte in volata fosse diventato proprio un velocista però poi è andato un po indietro di condizioni ultimamente non l'abbiamo visto al top anche se ha fatto una brutta caduta recentemente al delfinato se non erro e quindi vabbè vediamo 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 la port non è un velocista top però se la gioca su quelli arrivi un po insidiosi con pendenza pendenze non eccessive e ce n'è qualcuno tappe più impegnative è un po un sonico il brelli francese dai sì dai c'è sta cu card buoni a uno perché di tutti quelli ora che sono rimasti fuori che il mullà elencherà velocemente cu card e buoni secondo noi essendo francesi hanno quel qualcosina in più non tanto per vincere la maia verde ma quanto per fare dei buoni piazzamenti nelle volate rispetto a questi che sono rimasti fuori che mullà adesso elencherà e diciamo sono tutti a 0,8 dai diciamo cu card e piazzamenti li fa assicurati sì 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 e buoni anche lui l'ho visto bene ti dico l'ho visto il campionato francese lui c'ha un po caratterialmente caratterialmente un po pazzerello non è continuo secondo me magari farà più un piazzamento buono e poi magari una volata non la fa capito non riesce più così è molto discutito comunque dico una lista eh se faccio la lista veloce chess ball della dsm danny van poppel intermarché graipel vabbè magic che però eh ritornava al covid si appunto non è stato bene quindi anche matthews in squadra insomma sembra abbia avuto il covid no mi sembra quindi pare di sì pare di sì e poi aramburo che anche lui è un profilo così un po misto diciamo non velocista puro ballerini e cavendici li possiamo mettere insieme perché partirà comunque cavendici come velocista principale se poi cavendici dove non dovesse reggere diciamo no per tutte e tre le settimane potrebbe intervenire anche ballerini no a fare qualche volata eh stuive profilo chiaramente non non velocista ma eh anche lui da arrivi complicati e poi te unisse che però è tornato alle corse dopo molto tempo e poi l'ultimo il mitico christophe che un po in decadenza ma sempre insidioso eh sì sì sono tutti eh sono tutti questi diciamo mettiamo uno zero virgola sì zero virgola a cavendici e ballerini diciamo cavendici l'obiettivo principale sarà vincere una tappa quindi non lo mettiamo per la maglia verde assolutamente no 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 è solo per spiegarli questi non credo sprecherà energia cavendici per per la maglia verde allora passiamo a agli altri eh maglia pua sì eccoci qua allora maglia pua abbiamo Quintana e Barghil diciamo i principali indiziati per la maglia pua perché perché secondo noi eh non non saranno in grado di di fare una classifica generale di alto livello e quindi rimedieranno Quintana l'ha già vinta un anno la maglia pua Barghil idem e secondo noi quest'anno potrebbe essere l'anno della doppietta o per uno o per l'altro più Quintana di Barghil perché Barghil sinceramente dopo la primavera dove non era andato male comunque nell'Ardenne non benissimo non arriva diciamo nel migliore dei modi a questo a questo tour potrebbe cercare più la vittoria di tappa qualche fuga lo vedo non lo vedo così competitivo in salita da poter vincere la maglia eh vedo più un Quintana eh siccome dicevo all'interno della stessa squadra capito sì 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 quindi se qualcuno avrà la priorità nella in Archea chiaramente sarà Quintana certo O'Connor Chavez a tre perché tre stelle perché O'Connor l'abbiamo messo anche come come una delle ultime opzioni per la classifica generale è diciamo bivalente nel senso che se non punterà la classifica generale e se detto appunto ieri che magari dopo poche tappe si trova già con un distacco abbastanza evidente e importante dai primi in classifica è probabile che come fece al Giro d'Italia punti alle fughe e quindi di conseguenza essendo un buono scalatore potrebbe puntare per la maglia a pua e il solito discorso è bravo il solito discorso penso che valga anche per Chavez anche Chavez sì 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 potrebbero tentare una tappa e poi ritrovarsi magari con la maglia e allora a quel punto decidere di andare fino a un fondo cercare di portarla fino a un fondo bisogna vedere chi fra questi si ritroverà per primo con la maglia e questo è importante perché poi chiaramente si cerca sempre di difenderla c'è un po quello che è successo a Jeffrey Bouchard al Giro d'Italia poi abbiamo messo Wutz, Perez e Guillermo Martin a due stelle allora Wutz c'è stato diciamo una piccola dimenticanza ieri nel senso non è stata una dimenticanza è che per noi Wutz difficilmente in tre anni dieci o comunque se la può giocare negli ultimi posti nono decimo posto quindi per noi ieri poteva avere massimo una stella perché ci poteva stare ci poteva stare perché però dai vai no no perché appunto lui pecca clamorosamente a cronometro essendoci 60 chilometri a cronometro probabilmente prenderà diversi minuti e però è uno che in salita nelle salite non troppo dure ha diciamo ha performato bene anche recentemente e quindi potrebbe riuscire a fare in Svizzera Romandia il Giro della Svizzera è andato bene quindi mai dire mai però noi lo vediamo come un possibile attaccante diciamo lui è Daniel Martin infatti Daniel Martin a una stella uno dei due secondo noi punterà a o alle fughe o alla maglia PUA perché comunque è bene dirlo la maglia PUA è associata alle fughe sì è chiaro che bisogna attaccare no e quindi anche nel tentativo di fare classifica con le con due cronometro del genere i scalatori devono attaccare se vogliono fare classifica no e quindi eh chiaramente uno potrebbe ritrovarsi a lottare anche per la maglia PUA eh oppure abbandonare come più più facile che eh Ghiè Martin che sia invece costretto magari abbandonare l'idea di fare classifica e si concentri solamente sulle fughe su una maglia PUA come infatti anche la la il duo Cofidis Perez e Martin eh probabilmente si alterneranno un po' Martin punterà più alla generale Perez alle fughe però è chiaro che se Martin per qualche motivo magari una condizione non eccellente o una prima cronometro fatta male dove prende minuti su minuti magari viri il suo il suo obiettivo nella maglia PUA penalizzando magari di Perez ecco quindi eh quel è è difficile chiaramente azzeccare la maglia PUA penso sia la cosa più difficile eh delle quattro maglie e poi abbiamo Alaphilippe eh Roland c'è un piccolo errore perché il Roland è a uno non a due eh eh Alaphilippe Roland e Lacruzze e De Gantt tutti e quattro tecnicamente sono a uno eh perché le abbiamo messi in fondo anche Daniel Martin chiaramente che l'abbiamo detto paragonandolo con Vuz perché alla Filippe abbiamo messo una stella? Ma è perché alla Filippe penso che abbia altre ambizioni prima vincere una o due tappe poi provare a fare classifica come terza come terza opzione potrebbe essere una maglia PUA sì 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 come ripiego come ripiego sì sì della Cruz De Gantt e Roland perché comunque sono attaccantinati eh Roland viene da qualche anno un po' sotto tono dove qualche fughetta comunque l'ha sempre fatta non pensiamo che punti la maglia PUA ma mai dire mai diciamo che ci sono più forti di questi quindi sì 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 di Gantt se è De Gantt il Giro d'Italia assolutamente non è da schierare né da prendere però non crediamo che faccia che faccia come il Giro d'Italia quindi qualcosa farà o lascerà il segno in una tappa o andrà in fuga diverse volte quindi De Gantt al tour non credo che faccia come il Giro d'Italia non so te Mullah come la pensi ma ma non lo so guarda non non ho idea guarda non non mi fido però tantissimo di De Gantt io su De La Cruz invece sono un po' dubbioso perché avendo Pogaccia eh sì avendo Pogaccia di squadra non so quanto spazio avranno nelle fughe però magari un uomo all'attacco ci può stare eh anche che poi magari se lo ritrovo più avanti magari nelle tappe comunque sono questi dai e abbiamo magari lasciato fuori gente come Simon Yates ad esempio che che poteva essere eh un uomo importante per la eh per la per la per la bike exchange per le fughe o per qualche successo di tappa però non lo vediamo diciamo un protagonista per la maglia qua ecco poco interessato poco interessato poco interessato però giovedì sera nella diretta magari spiegheremo il perché potete schierare perché dobbiamo schierare Simon Yates se avete uno slot libero ecco favoriti i francesi favoriti eh sì la maglia punta hanno un passo in più è un simbolo che per loro conta molto di più rispetto agli altri è un qualcosa in più e tanti per tanti è una grande sarebbe una grande vittoria eh penso a Bardiglio di a Martè comunque è come non ti dico che è come vincere il tour ma comunque è un simbolo importante eh ma Bardè qualche anno fa ha salvato il proprio tour de France vincendo la maglia qua perché è una maglia che c'è molto anche tifosi capito allora l'ultima maglia dove c'è da parlare poco cerchiamo di farlo in un minutino qui c'è poco da dire i primi due saranno se non succede nulla probabilmente saranno il primo e secondo della maglia bianca il terzo posto c'è un po di c'è un po di dubbio perché Bingegaard potrebbe fare un grande tour visto le belle prove di inizio stagione pare Pentri non sembra uno scalatore ecco è più Connor diciamo lo scalatore della squadra eh c'è anche Nan Peter per le fughe quindi pare Pentri non so quanto spazio avrà per lottare per la maglia bianca eh Hamilton potrebbe essere l'unica sorpresa qua secondo me che può o bene bene o male male ma non che chiaramente batta Pogaccio però per il secondo posto se la può giocare con Godù Higuita è l'eterno l'eterna scommessa da qualche anno chiaramente i punti li portano i primi tre no quindi eh cioè si può arrivare anche a un'ora cioè andiamo anche a mezz'ora capito intensifica e comunque essere in una posizione nella maglia bianca eh perché se questi saltano tutti e prendono un'ora e più se anche Hamilton ti faccio un esempio prende venti minuti comunque si può piazzare verso tranquillamente sì diciamo che pare Pentri ad esempio non sarà l'uomo di punta della G2R ma alla partenza poi magari vediamo Vingegaard è un gregario Higuita lavorerà per Uran Hamilton diciamo è se la gioca con Godù per la piazza d'onore dietro Pogaccio questo è qua c'è poco da dire i primi tre sono molto più favoriti rispetto agli altri tre ovviamente quindi qui c'è poco da dire allora ragazzi noi abbiamo concluso siamo abbiamo sforato leggermente venti minuti ci vediamo giovedì sera per la diretta pre tour de france con tutte le start list ufficializzate delle squadre e commentate sotto il video se siete d'accordo con noi o non siete d'accordo con noi se abbiamo dimenticato qualcuno ma a sto giro non abbiamo dimenticato nessuno ciao a tutti ragazzi arrivederci